Dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha dato ragioni a Confestetica, i centri estetici hanno riaperto anche nelle zone rosse d'Abruzzo. Finalmente non siamo più penalizzati, dicono le operatrici e gli operatori del settore. In sostanza, la sentenza del Tar del Lazio di qualche giorno fa sposa le ragioni del ricorso presentato da Confestetica contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Un'ottima notizia, ci dice Fiorella Iannelli, presidente Confartigianato Estetica, nella sua attività di Pescara per un settore che insieme a tanti altri è stato duramente penalizzato. Qui c'è una grande attenzione alla tutela e alla cura del corpo, della persona e dei nostri clienti, lavorando nella massima sicurezza con il rispetto delle misure anti-Covid. Nella mia attività si entra uno alla volta e solo su prenotazione. Noi per mesi abbiamo subito tra chiusure alternate e comunque diciamo tutte queste altalenanze di situazioni che si vengono a creare quando si va a chiudere un centro estetico e vedere i parrucchieri aperti è stato veramente uno stilicidio. Ma non è solo questo perché c'è un risvolto anche più approfondito considerando che nelle farmacie i servizi estetici potevano essere erogati. I parrucchieri che avevano all'interno dei loro studio manicuriste o apprendiste che facevano le mani hanno potuto eseguire i servizi. Quindi di fatto hanno tolto una gran fetta di lavoro a tutto quello che è il nostro target giornaliero. In più non ci dobbiamo dimenticare che in tutti questi mesi l'abusivismo estetico è stato uno delle principali piaghe perché noi abbiamo dovuto chiudere mentre l'estetica diciamo sia di base che anche quella avanzata se vogliamo è andata avanti ma nel sommerso. Quindi questo oltre a essere una discriminazione è un vero danno del quale lo Stato prima o poi se ne dovrà fare carico. Diciamo dunque che i centri estetici sono aperti come i parrucchieri. Allora praticamente da lunedì noi siamo aperti, anzi martedì, mercoledì, perché la sentenza è arrivata ufficiale intorno a martedì sera. Poi ho aperto direttamente giovedì e voglio dire a tutte le estetiste che potete aprire in tutta tranquillità.